Ragazzi, volete fare una bella esperienza che vi metta in relazione, che vi faccia conoscere le persone più disfarate, diverse da voi? Se avete fra i 14 e i 18 anni, vi proponiamo un'attività di volontariato nella settimana che va dal 19 al 23 di giugno, per conoscere la realtà della Fondazione Caritas. Avrete l'occasione di donare un po' del vostro tempo alla mensa, alla distribuzione dei pasti, con i bambini e le mamme ospiti del nostro centro, con i ragazzi stranieri della vostra età. Sarà una settimana in cui capirete il senso del volontariato e il dono di sé. Per informazioni e iscrizioni contattate il numero 375-63-64-284 o scrivete una mail a fuoriclasse chiocciolacaritaslivorno.it